Musica E puntuali come ogni mattina ci ritroviamo per la lettura dei giornali Buongiorno, benvenuti a tutti cari telespettatori Siete sul canale 17 di Fano TV e questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali Prima di vedere i titoli delle notizie più importanti Come sempre diamo un sguardo al calendario per vedere il santo di oggi e poi il tempo Allora il santo di oggi, lo vediamo subito, è San Bernardino Realino Il sole è sorto alle 5.30 e tramonterà alle 20.54 Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, avremo temperature senza variazioni di rilievo Sia per la giornata di oggi che per la giornata di domani Anche se domani avremo possibilità di brevi e locali rovesci pomeridiani Ma soprattutto limitatamente alle zone interne Soprattutto quelle meridionali Andando a dare uno sguardo a giovedì 4 luglio Il tempo, la protezione civile delle marche prevede un aumento della nuvolosità Con sviluppo di nuvole comuniformi durante le ore pomeridiane Soprattutto sull'Appennino Dove ci saranno possibili locali rovesci o temporali pomeridiani Sia nel settore settentrionale che in quello meridionale Per quanto riguarda il tempo per il fine settimana È previsto sostanzialmente stabile Le temperature, ecco il quadro delle temperature previsto per la giornata di oggi Oggi a Macerata per esempio si toccheranno punte di 36 gradi Così come a Iesi 35, oggi le temperature saranno molto calde A Ascoli Piceno 36, dunque nell'entroterra sarà molto caldo Ma farà caldo anche sulla costa A Pesaro sono previste alle 2 del pomeriggio Sono previsti 33 gradi così come 31 a Senigallia E questa è un po' la fotografia del tempo per quanto riguarda oggi E se poi siete costretti a fare lunghe code Come può succedere andando per esempio nel tratto della galleria Che da Sant'Angelo in Vado collega Pian di Meleto Beh sappiate che è necessaria tanta pazienza L'area condizionata in macchina Perché ci sono code previste e tempi di attesa lunghi Addirittura 20-30 minuti Come testimonia questa fotografia Che ci ha mandato il nostro reporter di Strada Enrico Così come, ecco per farvi capire qual è la zona Tempi di attesa molto lunghi E quindi insomma armatevi di pazienza Ricordo il tratto Ci sono lavori di asfaltature Quindi lunghe code Anche attese di 30 minuti Per questi lavori Galleria che da Sant'Angelo in Vado collega Pian di Meleto Adesso andiamo a vedere i giornali Cominciamo dal Corriere Adriatico L'edizione di Pesaro Cavalcaferrovia e Via Lamarca Partono le verifiche su due ponti E poi a centro pagina invece la fotografia dei nuovi peschereci Il sindaco di Fano Massimo Seri Che saluta il comandante di uno di questi due peschereci Il sindaco li ha accolti come segno di rinascita dopo il dragaggio Poi sempre sulla prima pagina Torniamo sulla prima pagina del Corriere Adriatico Verso le regionali Si parla già del voto del prossimo anno Sapete il prossimo anno si elegge il nuovo governatore della regione Centrodestra spaccato Mossa di Castelli Fratelli d'Italia non decide Lui Celani attacca Ciccioli rilancia E poi sotto voleva buttarsi sotto il treno Gli agenti della volante lo salvano Per una delusione d'amore Era già seduto sui binari Lo vedremo tra poco Questa invece è la prima pagina del resto del Carlino Angeli in divisa La storia Un ragazzo pronto a suicidarsi sui binari Due agenti lo salvano Ladri all'assalto della spiaggia Chioschi nel Mirino Visitato anche il Lido della Polizia Poi è arrivata la sentenza Malipiero Le motivazioni di questa sentenza Safri omicida glaciale E non si è mai pentito Poi vedremo tra poco La storia di una donna di Fano Che ha vissuto dieci giorni d'inferno Per colpa di un morso Di un ragno Il ragno violino Del quale tanto abbiamo parlato l'anno scorso Arzilla tutta l'area di sicurezza Invieremo i vigili per garantirla Dice l'assessore al turismo del comune di Fano Etienne Lucarelli Parla l'assessore dopo la chiusura dello chalet Intanto il sindaco Seri avrebbe chiesto chiaramente Alle forze dell'ordine Pari trattamento tra locali e i restanti in provincia Dunque la prima cosa che faremo Dice Etienne Lucarelli Neo-assessore Manderemo una pattuglia dei vigili urbani In una zona proprio per disciplinare meglio Anche la sosta E rendere facile l'accesso ai mezzi di soccorso Noi vogliamo che tutta l'area sia in sicurezza Sia sicura Per una questione legata al turismo Ma soprattutto perché vogliamo Che i nostri figli restino in città E si divertino in sicurezza Prendendo la bici e non salendo in auto Per imboccare l'autostrada E questa invece è la pagina di Fano del Corriere Adriatico Si parla di passaggi Il Festival della Saggistica Che ha chiuso domenica Domenica sera Con tanto successo di pubblico Un pubblico stimato di 60.000 persone Numero di eventi 130 Costo dell'intera manifestazione 160.000 euro Per il 60% coperto Con sponsorizzazioni private Mentre il restante 40% È stato coperto Dai contributi pubblici Quindi 64.000 euro Sotto fa discutere invece Questo striscione Usato per fare promozione In effetti Non è un granché Non che sia brutto lo striscione Anzi ben fatto Però è stona Vederlo soprattutto Appiccicato a questo monumento Che è stato appena restaurato E che fa parte di tutto Un complesso ben ampio Come il Pincio I giardini Tutta la zona antistante Che è stata ristrutturata da poco Sul bastione Lo striscione adesso Della Fano dei Cesari Prima c'era quello Di Passaggi Festival L'ex assessore Stefano Marchegiani Però si dice contrario Così come il centro studi Vitruviano Che ha scritto Alla soprintendenza Invitandola a preservare Il bastione Da ogni contaminazione Promozionale Va detto che Questi striscioni Sono stati messi lì Perché hanno Il permesso Della soprintendenza Attraccano due pescherecci Siamo sempre al porto Al porto di Fano Si è avvertita Una posse di festa Ieri al porto di Fano Un clima di aspettativa Che ha contagiato Anche i vecchi lupi di mare Che si sono posti In attesa di ricevere Due nuove barche Provenienti dal porto Di San Benedetto del Tronto E due barche Che nel porto di Fano Tornino a fare base Così Questi due grossi pescherecci È già una novità Di per sé Perché? Perché negli anni La marineria La flottiglia locale Ha continuato A subire Praticamente Tante barche Se ne sono andate Tanti hanno Gettato Come si dice La spugna E quindi Se ne sono andati L'evento è più importante Perché i due natali Di cui vi avevo parlato Praticano la pesca Alla volante Quindi è una tecnica Che in passato Era molto in voga Nel settore Della pesca fanese E oggi È pressoché scomparsa Quindi ieri C'era il sindaco di Fano Che ha accolto Questi due pescherecci Comandanti Uno si chiama Dragut E l'altro invece L'altra barca Si chiama Santi Cosma E Damiano Punta dal ragno violino Dieci giorni d'inferno Maria Piscitelli Questa è la storia Che riguarda una signora Una signora Che è stata punta Nel suo All'interno di uno Sgabuzzino Insomma Uno sgabuzzino Che si trova fuori Nel giardino di casa Ha sentito Racconta lei Una puntura molto forte Pensava fosse Una Una zanzara In realtà Non è stato così Racconta Quali sono stati i sintomi Che cosa Ha dovuto fare È una donna di 51 anni Abita a tre punti È stato Dice un morso Lancinante nel collo La pelle Prima si è arrossata Come pronostione Poi Ha dovuto prendere Il cortisone Gli antibiotici È riuscito anche A ritrovare l'insetto Quindi l'ha portato All'Asur E all'Asur Le hanno confermato Praticamente Che si trattava Di un ragno Violino Furti a raffica Anche a Lido Della polizia Danni e razzia Dal fondo Del fondo cassa I bagni toto Siamo a Pesaro Incursione Anche sotto Gli ombrelloni I ladri Hanno forzato I chioschi di Levante Dove non c'era La videosorveglianza Due malviventi Molto magri E alti Forse italiani Ripresi Mentre rubano E spaccano Prima di entrare in azione Si sono preoccupati Ovviamente Di danneggiare Le telecamere Per evitare Di essere ripresi E poi torna Il bazzare In fondo al Genica Ambulanti Stendono la mercanzia Mentre il regolamento Vieta Qualunque vendita Sulla battigia Voleva buttarsi Sotto il treno Un ventenne È stato salvato Da due agenti Per una delusione D'amore Era già seduto Sui binari I poliziotti Lo vedono E riescono A portarlo Via Erano circa Le 20 e 30 Quando i due poliziotti Sono stati raggiunti Dalla segnalazione Di una persona Seduta sulla barra Dei binari Sotto il cavalcavia Di Santa Maria Delle Fabrecce Quindi i due agenti Vanno immediatamente Individuano il ragazzo Che era seduto Sui binari Con le gambe stese Questi due agenti Si chiamano Giuseppe Sepede Vincenzo Ciavarella Spengono le sirene Parcheggiano l'auto Vicino all'entrata E poi C'è il racconto Di come sono riusciti A salvare Con questo lieto fine Caricando poi Questo Questo ventenne Portandolo Portandolo via Insomma È andata bene Un'azione fatta Con il cuore Il cuore in gola Soprattutto La coscienza Del pericolo Che incombe Nell'animo La preghiera Di riuscire a salvare Questo ragazzo È successo tutto In pochi minuti Ed ora Andiamo Sulla pagina Sì di Gallia Vuole i soldi Per rifornirsi Di droga Una storia Che come tante altre Purtroppo Picchia Genitori E sorella È stato arrestato Ostravetere Un tossicodipendente Di 40 anni Scatena L'inferno Il giudice Gli vieta Di avvicinarsi Ai familiari Pusceri in manette In casa Nascondeva un bazar Proibito Fermato dalla polizia Per spaccio Un pakistano Di 25 anni Sequestrati Tretti di sostanze Tra asci Eroina E metadone Rami in bilico Sulla pista ciclabile Di via delle rose Rimossi dai vigili del fuoco Dopo la tragedia Sfiorata Nella serata Di mercoledì Questo è l'intervento Nella fotografia Siamo sempre a Senigallia Festa del porto Festa del porto Di Pesaro BIS In via Cecchi In il pacchetto Sicurezza Funziona Lo spostamento Della calata D'Uilio Convince Gli organizzatori Per la 336esima Edizione C'è un ricco Programma E sotto I lavori sono conclusi Si inaugura Il mercato Del pesce Le bancarelle coperte Nella banchina Munafo Con il progetto Portobello Cavalcaferrovie E via Delamarca Partono le verifiche Su questi due ponti Affidato All'RG Prove Il controllo Dei materiali E della conservazione All'Aira Il carico E il collaudo Dopo Travagliate Peripezie Individuata La società Che dovrà sostituire Il ponteggio Nella zona Del mare E questa è Invece L'edificio Dell'ex Consorzio Agrario Nel porto Di Pesaro A ottobre Questo edificio Verrà abbattuto L'esito E questo è l'esito Di un incontro Tra la proprietà Il comune E la capitaneria Di Porto Mundial Beach Soccer Marotta Marotta Vola Dal 19 al 21 luglio Ci saranno degli incontri Spettacolari Di quattro nazioni Tutto Amplificato anche Dalle riprese Di Sky TV San Costanzo Invece Festeggia Il suo campione Oggi il paese Tutto per Giovanni Carboni Protagonista Al Giro D'Italia Raduno di moto Per Gardo Cecchi A Urbino Il circuito Città di Urbino Torna dopo 66 anni Sabato Il via E poi Il caso Aufreiter Che deve restare Per il presidente Di Urbino Arte Che è dispiaciuto Per l'addio Del direttore Della Galleria Nazionale Secondo il presidente Di Urbino Arte Aufreiter Deve restare Perché è una persona Eccellente Vitaliano Angelini Dice la città Subirà una grave perdita Spero che lui Ci ripensi Non tagliate I fondi Alle città Ai paesi Che si sono fusi E che hanno Già messo a bilancio Le cifre Stabilite Dai governi I precedenti Ucchielli Scrive al premier Conte Perché Non ci sta A vedersi Diminuire I fondi Previsti Con i bilanci Già approvati Tra l'altro Il governo Ha dimezzato I fondi Che aveva garantito Ovvero In questo caso 1 milione E 470 mila euro Per 10 anni Ricorderete Per agevolare Le fusioni Tra i locali Tra i comuni Il governo Aveva promesso Per 10 anni Un tot di soldi Ecco perché Poi ci fu la corsa Anche a Fondersi Così come ha fatto Quelli che poi Sono diventati Vallefoglia Come voleva fare Monbaroccio Eccetera Perché il governo Aveva promesso Dei soldi E adesso però Succede che Per esempio Nel caso di Vallefoglia Da 1 milione 470 mila euro Che doveva avere Per 10 anni Ora Ne ha poco più Di 1 milione Quindi varrebbe da dire Quasi quasi Aveva visto lungo Chi non credeva A tutte queste A tutte queste Promesse Ultimo round Alla consulta Sull'unificazione Di Marotta Stamattina si discute Il ricorso Del comune di Fano Che contesta La legge regionale Dunque La domanda Delle domande È Marotta rimarrà unita Sotto Mondolfo Oppure no Oppure si tornerà All'antica Una parte Di Marotta Tornerà Sottofano Questa mattina A Roma Alla corte Costituzionale Si terrà L'udienza pubblica Che dovrà Portare All'ultima sentenza Sull'annosa Questione Dell'accorpamento Amministrativo Della città Balneare Sotto il comune Di Mondolfo Da una parte Ci sarà La regione Marche E dall'altra Appunto Lo Stato Insomma Questo è Vedremo Che cosa Verrà fuori Ma penso Che non succederà Nulla Di che Insomma Pericolosa Buca aperta In Viale Gramsci A Mondolfo Allarme dei residenti Per i ritardi Di un cantiere Rischi Soprattutto Per i ragazzi Che vanno In bicicletta E questo è lo scavo Che vedete Nella fotografia Hospice Da 10 a 20 posti letto Dunque aumentano Di 10 unità Manca il progetto Esecutivo L'annuncio Di Federico Talley In autunno Partiranno i lavori La conclusione La prossima primavera Quindi Parliamo Dell'ospedale Dell'ospice Di Fossombrone Il consigliere regionale Delegato Alla sanità Anticipa opere Per 6 milioni di euro Negli ospedali Di Cagli E di Urbino L'ultima pagina È quella Dello sport Perché ci sono Buone notizie Per quanto riguarda Il Fano Fano al lavoro Per la serie C Sapete Il Fano è Stato Per tante settimane Ultimo in classifica Quindi È retrocesso In serie T Di Però c'è Il ripescaggio Adesso Gabellini Che è il patron Del Fano Calcio Dell'Alma Eventus Fano Ha trovato Un accordo Con Lascoli Quindi si sta Lavorando Per Riammettere La squadra Tra i professionisti Ma c'è di più Ci sono ancora Buone notizie Perché dal club Bianconero Cioè dal club Dell'Ascoli Potrebbero addirittura Arrivare anche Nomi importanti Nomi pesanti Come Carpani Santini Ongombo Che lo vedete In questa fotografia Che tra l'altro Ha segnato Già dei gol In serie A E olandese In serie B Nella serie B italiana Quindi insomma Come dire Dall'inferno Della serie D Ora ci sono invece Spiragli Interessanti Per Addirittura Non solo Rimanere in serie C Ma avere anche Questi Persone Questi Professionisti Del calcio Che potrebbero dare Insomma un po' di Spettacolo Magari nel prossimo Campionato calcistico A Fano Noi ci fermiamo qui L'informazione torna Questa sera Alle 20.30 Con Occhio alla Notizia Il telegiornale Vi ricordo il nostro Numero di telefono 338 4968 250 Al quale potete inviare Anche le vostre Segnalazioni Utilizzando anche Whatsapp Grazie per essere stati con noi E buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti